a presunire anche la finale ha divinato 5 mila punti vetono sul proteggivo 20 a termine che ha preso della massima transitabile durante la nostra protezione al prossimo il numero che verrà risolverà il numero segnale il numero di 19 sarà sottolineato dal portino della campana a spicciare il numero del 28 sarà la segnale di un numero di livelli alla persona che si fa punti validi, traguardo meno 18, attenzione a 30, punti validi per voi, meno 18 a 30 Ascomalgando tutti, il concorrente 2020. che avendo me così a Stefano e dopo un ciudadino ha guadagnato il concorrente 276 Solo collega ogni pali subito di semplice Il concorrente 320, Stefano Genero Garzia, arriva a 2 punti, il sale a 3 punti. Punti dei meno 14, attenzione atleti, punti dei meno 14 su questo prossimo traguardo. Ha guadagnato 2 punti, il concorrente numero 338, e ne ha guadagnato 1, il concorrente numero 34, Morelli Nicola. Per entrambi i primi punti nello scoggio inizio di questa gara. Fabri e la campagna di Milo Parigi, arriva a 2 punti. Stiamo avvicinando ai 12 punti della confusione. Stiamo avvicinando ai 12 punti della confusione. Stiamo avvicinando ai 12 punti in paio. Qui si è avvicinando ai 12 punti. Tutto qua. Stiamo avvicinando ai 12 punti, la concorrente 338, Marini 9 e ne ha vato a 2 punti, la squadra è 4 punti ne ha 2 punti. Lo conquista la concorrente 283, Covelli Alessandro. Il primo punto per l'unico e la scuola è avvicinando ai 12 punti. La campana del 1-11. La copertura diventa percorso, quindi al traguardo dei meno 10 verranno segnati ancora punti vari di attenzione di atleti. La copertura diventa percorso, quindi al traguardo dei meno 10 la concorrente numero 104, Bossi e Leonardo i suoi primi due in questa gara ed un punto la copertura del 4-24. La campana del 1-9 che ha già scitato. Viene ammunito il concorrente numero 19, Mascatiri Tommaso, ammunizione per Mascatiri Tommaso, numero 20 a cuore. Siamo in possibilità di numero 8. Siamo in possibilità di numero 10, Mascatiri Tommaso, ammattire, Mascatiri Tommaso, ammattire, Mascatiri Tommaso, ammattire. traguardo alle meno 6 ancora punti validi per i concorrenti in gara grandi equilibri fino a questo momento di gara i punti da togli ha guadagnato due punti concorrente 338 Valini Emanuele neveva 4 tra 6 un puntolo ha conquistato il concorrente 283 Alessandro Acomelli neveva 1 tra 2 abbiamo già sentito la campana dei super torni il tuo appunti traguardo su traguardo del 4 sul prossimo traguardo stiamo avviando le grandi cercate che però a livello di tutti i conseguiti fino a questo momento a un grande livello di equilibri punti dei meno 4 attenzione a preti attenzione a preti punti dei meno 4 la guadagnato dei punti concorrente 138 Valini Emanuele che sale in destra la classifica con 8 punti un punto ha conquistato il concorrente 113 Luca Subiglia neveva 2 si porta a quota 3 punti conquistati campana dei meno 3 2 passaggi alla conclusione ancora punti in taglio su questo traguardo attenzione a preti ha guadagnato 2 punti il concorrente numero 104 Bossi Leonardo neveva 3 sale a 5 Nicola Emanuele concorrente numero 113 Luca Subiglia neveva 3 sale a 4 dunque ufficiosamente parlando in prossimità dell'ultimo giro traguardo della signora cantana abbiamo da 8 punti Valini Emanuele con 5 punti Leonardo Bossi con 3 punti Gennaro Castiglia Stefano Dominic Cecchini e con 2 punti Alessandro Covelli e Nicola Morelli questi sono i punti conseguiti nello giocinito di questa prova fino a questo momento grazie